Dignazio, si parla della piccola opera Caritas di Giulianova, del rischio chiusura di questa importante istituzione. La politica scende in campo, NCD scende in campo per cercare di salvare proprio la piccola opera Caritas. Sì, credo che sia dovere di ogni politico, prima di tutto tutelare i lavoratori, che sono tanti e che fra altre cose stanno portando avanti questo lavoro senza stipendio e ben oltre il loro dovere, fanno con il cuore. E anche per i malati, per i malati, per coloro che sono ospiti della struttura, per i genitori delle famiglie che sono molte volte anziani e che vivono col terrore che quella struttura possa chiudere e quindi ritrovarsi poi a non sapere che fare, come gestire i propri malati che sono all'interno della struttura. Quindi assolutamente va presa in mano questa situazione, va gestita. Devo dire che comunque il manager della ASL di Teramo tanto ha fatto per, almeno per l'annualità 2015, le cose stanno andando bene, è il progresso che purtroppo non si riesce a gestire e soprattutto non la retta, il costo della retta va adeguata, quindi credo che se non riusciamo a risolvere questo problema purtroppo la situazione diventerà tragica. Fra altre cose anche ai dipendenti bisognerà far capire le intenzioni perché c'è il rischio magari che da una situazione così poi non se ne esca fuori e queste persone continueranno anche fra altre cose a perdere tempo e non trovare una diversa distinzione. Io credo che è assolutamente importante di tutti coloro che hanno a cuore questa situazione di combattere affinché si possa risolvere il problema.